I castelli da quando, fin da quando siamo piccoli, vengono ambientate le favole. Yeah, get married in the castle is a fairy tale, you know, just when we are young, we dream, especially the woman, dream to get married in the castle. E appunto ci sono i cavalieri, le damigelle, i piccoli bambini che giocano e ci sono il re e la regina. Yeah. Però oggi per noi, voi siete il re e la regina del castello di Marcesi. So, today you are the king and the queen from the castle of Marcesi, because in the castle you don't leave a lot of people, but today you are the best one. Let's pray. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.